Il portavoce nazionale d'Italia dei Valori, Leoluca Orlando e i coordinatori regionale e provinciale Fabio Giambrone e Nello Amel riuniti ad Agrigento per consegnare il dossier riguardante la situazione ASI. Abbiamo presentato l'anno scorso un atto ispettivo denunciando esattamente alcuni episodi di assoluti casi di mala politica perché quando alcuni agenti di polizia penitenziaria vengono utilizzati all'interno del consorzio ASI dove non è previsto tra l'altro perché rispondono a una serie di requisiti assolutamente essenziali noi abbiamo ritenuto opportuno chiedere al ministro Alfano di spiegarci le ragioni di questa sua scelta. Non c'è stata risposta ma questo conferma l'assoluta inadeguatezza culturale e politica di un governo nazionale. Noi abbiamo sottoposto in questo dossier una serie di casi, devo dire molto lungo e molto elaborato perché gli organi competenti in sede contabile e in sede giudiziaria accertino quanto abbiamo esposto. Noi qui siamo a fare una denuncia, una denuncia culturale e politica, nei confronti di un andazzo per il quale in questa nostra realtà quando tu denunci qualche cosa che non va bene ti dicono ma tanto lo sanno tutti e il fatto che lo sanno tutti che significa che si può continuare a fare allora siccome lo sanno tutti noi lo abbiamo saputo e lo stiamo denunciando. Il portavoce nazionale d'Italia dei Valori, Leo Luca Orlando, esprime anche solidarietà all'assessore Venturi. Noi siamo qui per esprimere solidarietà all'assessore Venturi, alla struttura dell'assessorato che ha cercato di fare il proprio dovere agli ispettori che hanno fatto relazioni pesantissime sulla gestione dell'Asi ma dobbiamo al tempo stesso dire all'assessore Venturi che la smetta di farsi prendere in giro dal presidente Lombardo.